Cercavo di dare un senso alla mia vita ed un ricordo mi attraverso la mente. Era una di quelle splendide giornate di primavera. Sentivi che l'estate stava per arrivare. Io e Dory eravamo andati a fare una passeggiata nel parco. Tornammo a casa e misi su un disco di Louis Armstrong. Una musica che amo, l'adoro, insomma, ci sono cresciuto insieme. È bellissima. E successe che alzai lo sguardo e capì in quel momento quanto fosse bella Dory. Quanto fosse magnifica. E non lo so, sarà stato tutto l'insieme. Il suono della musica e la brezza e quanto vedeva bella Dory. Insomma, capì che l'amavo. E tutto quel momento sembra affondersi perfettamente. Ed io mi senti felice. Ciao. 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 Grazie a tutti.